Bentornati viandanti, io sono Federico Divino e vi do il benvenuto a questa seconda lezione del corso, diciamo, del nostro corso online di sematologia. Questa sarà una lezione un po' particolare perché inizieremo ad introdurre il concetto di antropologia, o meglio, quello che io intendo proporre come concetto di antropologia e ci rifaremo ovviamente a quella che è effettivamente l'antropologia tradizionalmente intesa, ma ci saranno delle piccole differenze. Prima di tutto voglio specificare che qua si intende antropologia nel suo senso etimologico, cioè discorso, studio sull'antropos, cioè sull'essere umano. È studio dell'essere umano tutto ciò che l'essere umano, in qualche modo è, produce o, diciamo, percepisce. Quindi il modo in cui l'essere umano costruisce un mondo, ma anche il modo di essere dell'essere umano stesso, è in qualche modo interesse dell'antropologia. Da questo punto di vista io vorrei far notare che effettivamente ci sono stati dei periodi storici in cui l'antropologia si è effettivamente presentata come sottodisciplina della biologia umana, mentre ad oggi fondamentalmente, pur rimanendo un'antropologia biologica, per intenderci, mi sembra, non vorrei errare, ma nei corsi universitari è quella che si struttura come il codice del settore scientifico disciplinare BIO07 e quella è effettivamente un'antropologia biologica, permane un'antropologia filosofica e una terza, diciamo, antropologia che è l'antropologia culturale. In realtà nel mondo italiano noi mettiamo insieme nello stesso identico codice MDEA01 le discipline demo-etno-antropologiche, cioè la demologia, lo studio delle tradizioni popolari, l'etnologia che è lo studio della popolazione e l'antropologia che è effettivamente in Italia, soprattutto di tradizione culturale, l'antropologia culturale, quindi lo studio della cultura, ma anche l'antropologia sociale. All'estero le cose sarebbero un po' diverse, diciamo, ma adesso non ci addentriamo in queste cose. Allora, questo è un modo di intendere l'antropologia. Come si intenderà l'antropologia in questo corso, invece, è esattamente il modo in cui la si intende nel saggio che è la base testuale di questo corso, cioè senso dell'antropologia. In quel testo si intende l'antropologia come la disciplina che studia l'essere umano nel modo più totale, totalizzante e mi viene da usare un aggettivo brutto, olistico, ma olistico che vuol dire? In tutti i suoi aspetti. Quindi l'essere umano è essere umano quando struttura delle relazioni sociali, è essere umano quando vive dentro una cultura, vive e si fa vivere. La cultura, diciamo, l'essere umano ha un rapporto con la cultura molto complesso, in quanto l'essere umano contribuisce a dare forma alla cultura, ma è anche vero che l'essere umano nasce molto spesso, diciamo nel 100% dei casi nel mondo moderno, ormai che la cultura è un fatto in qualche modo affermato. L'essere umano già nasce dentro la cultura, per cui si fa condizionare dalla cultura in cui è nato, è in grado a sua volta di condizionare la cultura, ma è un rapporto in qualche modo bionivoco. Quindi è sempre essere umano nel mondo culturale, è sempre essere umano nel mondo psichico. Il mondo psicologico, la psicoanalisi è, non solo nasce comunque storicamente in dialogo con l'antropologia, non dimentichiamoci i saggi famosi di Sigmund Freud, Totem e Tabù, l'avvenire di un'illusione, il disagio della civiltà, sono tutti saggi che in qualche modo parlano all'antropologia, contribuiscono al dialogo antropologico. Oggi gli antropologi, diciamo, quelli che io simpaticamente chiamo i miei colleghi, sono scettici nei confronti della psicoanalisi, ma in realtà la psicoanalisi nasce in dialogo con l'antropologia. Il complesso edipico, diciamo, è un riferimento freudiano a temi della mitologia che sono parte dell'elaborazione psichica. Freud ha sempre inteso il mondo mitologico come un prodotto umano, ma nel senso che la psicoanalisi come l'antropologia studiano i prodotti, le narrazioni mitologiche, astratte in qualche modo dal loro contesto culturale o in dialogo con il loro contesto culturale. Facendo questo la psicoanalisi si rivela semplicemente una sorta di branca dell'antropologia, ma lo stesso Freud diceva verrà il momento in cui la psicoanalisi dovrà riconoscersi come parte della biologia umana e non c'è altra biologia umana, altro modo di intendere la biologia umana se non quello antropologico. Per non parlare poi del dialogo che Freud ha in qualche modo con la nascente psichiatria fenomenologica, da Binswanger poi ribattezzata da Science Analyse, ma nel nostro gergo italico si può anche dire antropoanalisi. Binswanger parlerà tantissimo di antropologia e scriverà, utilizzerà proprio il termine perché per lui la psichiatria fenomenologica è una forma di antropologia. I più pignoli continueranno a dire eh ma un conto è l'antropologia filosofica, un conto è quella fenomenologica, un conto è quella culturale. Dal mio punto di vista questi discorsi sono diciamo inutili precisazioni che figli, che sono figli in qualche modo di questa cultura iper specialistica che anziché dialogare vuole dividere, vuole settorializzare sempre di più, è antropologia sempre, è sempre antropologia se parla dell'essere umano. E noi parliamo dell'essere umano anche quando parliamo delle sue nevrosi, quando parliamo delle sue psicosi, così come quando parliamo delle sue narrazioni religiose, mitologiche e quando parliamo delle sue costruzioni sociali. E possiamo capire meglio le sue costruzioni sociali se le mettiamo in relazione al suo mondo psichico, come possiamo capire meglio i suoi turbamenti mentali, i suoi disagi mentali, le sue cosiddette malattie mentali, poi cercheremo di decostruire un po' anche questo concetto. Le capiamo meglio se noi le mettiamo in relazione al mondo sociale, al mondo culturale, al mondo religioso. Questa era stata una grande intuizione di Carl Gustav Jung, mettere in relazione il mondo religioso. Io ho sempre detto ironicamente, quasi scherza in qualche modo, volendo dire qualcosa un po' di vero che Carl Gustav Jung è sempre stato più bravo come antropologo delle religioni che non come psicoanalista. Poi più avanti avremo modo di vedere perché io faccio questa affermazione brutta e cattiva, nonostante io comunque mi sia formato in psicoanalisi laica di orientamento junghiano, quindi comunque parlo più o meno per conoscenza anche di quel mondo. Ma in tutto questo, diciamo, discorso antropologico c'è un elemento da cui noi non possiamo assolutamente prescindere, che è la linguistica. Vi ho detto nella lezione precedente che la linguistica in realtà è in qualche modo la disciplina principe dell'antropologia. Se da un lato è effettivamente una branca dell'antropologia, quella branca dell'antropologia che dell'essere umano studia il linguaggio, possiamo dire che però è la più nobile perché ciò che noi rileviamo nell'analisi linguistica, nell'analisi delle strutture linguistiche, io adesso inizierò ad usare tanto questa parola che noi andremo a definire meglio proprio in questa, non tanto in questa quanto nella prossima lezione, nello studio delle strutture linguistiche dicevo noi ritroviamo gli stessi identici elementi che poi si ripresentano anche nelle formazioni psichiche ma anche nel modo di, diciamo, di vivere il disagio e questo c'è utile tanto nella psicoanalisi, non solo in quella lacaniana, noi non faremo un corso di psicoanalisi lacaniana, ma attraverso la rilettura lacaniana della psicoanalisi, attraverso anche la linguistica, noi vogliamo riproporre una teoria unificata della linguistica e della psicoanalisi, ma questo dicevo è vero anche non soltanto nel mondo psichico ma anche nel mondo etnopsichico perché forse voi non sapete ma esiste una grandissima tradizione interna all'antropologia culturale ed è forse quella più, diciamo, di maggior successo soprattutto all'estero che è l'antropologia medica e l'antropologia cioè che studia il pensiero medico, come viene strutturato nelle differenti culture, compresa chiaramente quella dell'antropologo che sta studiando e sta studiando la propria cultura, un antropologo può studiare sia la cultura degli altri ma può anche studiare internamente, diciamo, da in prima persona la propria stessa cultura e questo è in realtà anche comparare la propria cultura con culture altre dalla propria, questo è un esercizio utilissimo. L'antropologia medica nello specifico rivolge l'attenzione al mondo clinico, a come le diverse culture strutturano, la teoria della malattia, la teoria della cura ed è stata in qualche modo una disciplina che ha aiutato anche a decostruire la storia del pensiero medico occidentale attraverso lo studio di altri sistemi medici, ma la branca in assoluto più prolifica è tutte le etnopsichia, dall'etnopsichiatria, l'etnopsicologia, l'etnopsicoanalisi, questa può avere vari nomi o psichiatria transculturale anche se la psichiatria transculturale era un po' diversa, sono appunto dialoghi tra il mondo antropologico e del mondo psichiatrico, psicologico, psicoanalitico e c'è molta letteratura al riguardo perché appunto la psicoanalisi in particolare è stata la prima a dialogare con il mondo antropologico non solo attraverso Freud, vedremo più avanti vari esempi, non dimentichiamoci oltretutto la grande teoria decostruttiva della psicoanalisi che viene fatta ad esempio nella trilogia di Capitalismo e Schizofrenia di Gilles Deleuze e l'anti-edipo, o l'anti-edipo a seconda di come si vuole leggere, eccetera eccetera, tutte queste cose noi le vedremo, io ve le sto anticipando, giusto per farvi capire che non si può parlare di psicoanalisi così, come se fosse in una bolla separata, non si può parlare di linguistica così come pretendono di fare i linguisti, come se non avesse niente a che vedere col mondo della salute mentale, in realtà i linguisti hanno molto più a che fare con la salute mentale e con la psicologia di alcuni psicologi perché non tutti gli psicologi in realtà si interessano così tanto della struttura mentale quanto i linguisti, dipende che tipo di psicologia si fa, una psicologia dinamica sarà molto più vicina alla linguistica di quanto non lo sia una psicologia sociale che in realtà non ha le basi per comprendere le vicinanze strette tra il mondo psicologico e il mondo linguistico e la psicologia sociale è molto più, una disciplina molto spuria in qualche modo vicina alla sociologia o all'antropologia sociale, rilette in chiave psicologica, adesso sarò subissato di critiche da parte degli psicologi, ma tutto quello che sto dicendo in una certa misura è ripreso dal saggio senso dell'antropologia dove queste cose vengono anche in qualche modo argomentate, io qui non ho tempo di argomentare ogni singola frase che dico se la facciamo notte. In tutto questo dunque c'è un aspetto fondamentale che noi dobbiamo tenere in considerazione, la teoria antropologica che introdurrò in questo video è sostanzialmente una teoria linguistico-antropologica. Noi facciamo antropologia attraverso lo studio del segno, la civiltà umana è in qualche modo la civiltà dei segni, quindi l'antropologia studia quella produzione di segni dell'essere umano che rendono umano l'umano, segna quel mondo umano nell'umano che è diciamo una sorta di immagine dell'essere umano ed è un'immagine data in maniera diciamo potentissima dal linguaggio e io ripeto non bisogna intendere il linguaggio semplicemente come la mera comunicazione, il linguaggio è molto di più, il linguaggio è poco struttura percettiva, struttura anche comunicativa ma è struttura espressiva, c'è un'espressività che non è necessariamente indirezzata alla comunicazione, noi vedremo anche questo. Per capire la linguistica noi dobbiamo introdurre un nome fondamentale che ci sarà diciamo da guida per quasi tutto il nostro percorso ed è quello di Ferdinand de Sussure che d'ora in avanti chiamerò Ferdinand de Sussure o semplicemente Sussure ma giusto per capirci perché siamo italiani e risulta alquanto spocchioso cercare di imitare la pronuncia perfetta di un'altra lingua e parlandone chiaramente una diversa. Di Sussure conoscono tutti quanti la distinzione linguistica fondamentale che però noi non tratteremo in questo video che è quella tra langue e parole e lingua in qualche modo linguaggio e parola ed espressività e Sussure è l'autore del Cours de Linguistique Generale cioè il corso di linguistica generale in realtà non è il vero autore, quel testo è attribuito in qualche modo a Sussure anche se lui non ne ha scritto nemmeno una riga in quanto quel testo è il frutto, la rielaborazione, la riscrittura da parte di alcuni suoi studenti in particolare Balli e Sèche e delle lezioni universitarie che Sussure appunto tenne sulla linguistica generale. Sussure è considerato se non il fondatore della linguistica perché in realtà viene molto dopo i neogrammatici che sono in qualche modo i veri fondatori della linguistica in occidente in Europa. Sussure è il gran riformatore ed è sicuramente il fondatore della di una diciamo di una semiologia, di uno studio del segno che lui auspicava come disciplina più ampia che includesse in sé la linguistica e la psicologia, ma Sussure è appunto il linguista generale, la linguistica generale è quella che studia la facoltà del linguaggio in modo più assoluto a differenza ad esempio della prima, della linguistica della prima ora che era più che altro una linguistica storica nata soprattutto per l'indo europeistica, l'indagine della delle diciamo dei rapporti che avevano una serie di lingue poi definite indoeuropee e che si crede discendano da un antenato comune o diciamo da un gruppo linguistico comune. Dunque di Sussure ci sarà di estremo aiuto una definizione in particolare di linguaggio che adesso vi vado a citare e che è appunto ripresa dal cours di linguistica generale. Allora questa sarà la frase che ci accompagnerà fondamentalmente per tutto il nostro corso. La lingua, questa è la definizione di diciamo che viene attribuita a Sussure, il pensiero diciamo prelinguistico prima che venga la strutturazione del linguaggio è come una nebulosa in cui niente è necessariamente delimitato, non vi sono idee prestabilite e niente è distinto prima dell'apparizione della lingua. Dunque il pensiero prelinguistico è come questa sorta di nebulosa in cui niente è distinto prima dell'apparizione del linguaggio, della lingua. E questo ci sarà fondamentale se qualcuno ha familiarità con la psicoanalisi laganiana si renderà conto che il grande altro, le grand'autre, l'inconscio laganiano è in qualche modo, in qualche modo richiama questa definizione anche se non totalmente. Vedremo poi nello specifico che cosa intendo. Ma questa idea di nebulosa, quasi di caos primordiale da cui poi emerge il linguaggio, e come funziona? Sostanzialmente il modo di immersione del linguaggio segue questa direttiva. L'organizzazione attraverso la segmentazione. All'interno della nebulosa, di questa nebulosa che è un continuum indistinto di significato, la lingua pone dei confini, pone o meglio sovrappone una griglia che delimita dei confini specifici e all'interno di quei confini specifici i parlanti decidono di effettuare in qualche modo delle attribuzioni di senso. Questa cosa significa A, questa cosa significa B. Ciò che è all'interno, ciò che della nebulosa è all'interno di questo confine semantico sarà definito come X, quest'altro come Y. Questa è anche la nascita in qualche modo del principio di non contraddizione. X è X e non può essere altro. Ovviamente questo principio si autocontraddice per una serie di ragioni che vedremo più avanti, ma se seguite anche il corso sulla teoria della meditazione sarà ancora più chiaro lì perché nello specifico la filosofia di Nagarjuna si fonda soprattutto sulla dimostrazione della contraddittorietà intrinseca del linguaggio e con la dimostrazione della contraddittorietà intrinseca del linguaggio Nagarjuna dimostra la contraddittorietà intrinseca di tutte le strutture umane, ma avremo modo di vederlo anche noi. Per il resto volevo dare un esempio di come questa strutturazione in qualche modo prendeva forma parlandovi appunto di un'antropologia che in questo senso tiene da conto le note linguistiche. In particolare io faccio riferimento al concetto di sacro. Dunque, sacro è un termine indoeuropeo che la cui radice veicola due significati essenziali, quello di separazione, ok? Da un lato e dall'altro quello di stabilire, sancire qualcosa. Il sacro indica uno spazio separato che deriva dall'istituzione di un confine tra due entità, le quali spesso rappresentano la norma da un lato, che è appunto l'entità stabilita, e la normalità, la non-normalità dall'altro, che è il non delimitato. Quindi l'identità da un lato, l'alterità dall'altro, l'altro. Al di là, l'alterità si trova al di là dei limiti del sacro. Allora questo concetto di sacro, soprattutto in antropologia delle religioni, in storia delle religioni, viene troppo spesso diciamo bistrattato, perché in parte è associato anche a Mircea e Liede, di cui secondo me non è da buttare tutta la letteratura, anzi, ma per varie ragioni questo concetto di sacro viene disdegnato dell'attenzione degli antropologi, mentre in realtà trasportato nella nostra antropologia del sema, nella nostra antropologia semantica, ritrova invece gran parte della sua importanza, e se abbiamo tempo vi dirò anche il perché. Ma quello che ci interessa è che il sacro è stato definito in modi diversi. Da un lato la definizione appunto di Rudolf Otto, autore di Das Heilige, appunto sul sacro, in cui il sacro viene definito come quell'elemento tremendo e affascinante di alterità assoluta che l'essere umano in qualche modo non riesce a comprendere, ma che determina un suo rapporto quasi emotivo con gli elementi a cui si attribuisce questa sacralità, questa presenza di alterità indefinita. Ma dall'altro a noi quello che interessa e di cui volevo parlarvi, nello specifico in questa lezione, è il fondamentale lavoro di Mary Douglas sul concetto di purezza, che ha rivelato come esiste effettivamente nelle società arcaiche la tendenza ad identificare la dimensione del sacro con quella dell'impurità. Questa è la costituzione, ok, del dualismo, diciamo, dell'antinomia primordiale, quella che io definisco antinomia primordiale. Da un lato il linguistico, nella dimensione del linguistico c'è tutto l'organizzato, ok? Il linguaggio è tutto ciò che può organizzare, quindi ciò che noi possiamo nominare, evocare all'apparire della nostra cognizione, perché ha un'identità attribuita dai nostri, diciamo dalla nostra convenzione umana, è nella sfera del noto del linguaggio. Il non linguistico all'interno di questa antinomia primordiale invece è tutto ciò che è sacro, separato, ma soprattutto altro dalla dimensione nostra nota. Questa teoria di Douglas appunto si ricollega all'idea che voglio dare io di antinomia primordiale, perché se noi concepiamo come antinomia primordiale quella tra linguistico e non linguistico, tutto ciò che ne discende da un punto di vista cognitivo, si può ricollegare all'idea della Douglas come il linguistico è il noto, il mondano, il puro, il formale, la salute. Il non linguistico è l'ignoto, il sacro, l'impuro, la normale, la malattia. Tenete bene a mente questo, diciamo, schema di derivazione, di doppia derivazione che sto dando. E tenete anche presente una cosa, l'ignoto è ciò che in realtà è vero che è al di fuori della nostra definibilità linguistica, ma il fatto stesso che noi definiamo tutto ciò che è indefinibile con una definizione, appunto quella di ignoto, lo fa in qualche modo rientrare. Quindi non esiste un vero dualismo al di fuori della nostra, diciamo, cognizione linguistica, è solo all'interno della nostra cognizione linguistica che appunto si fonda in contrapposizione a questa nebulosa primordiale ignota e ne fa, ne traccia dei confini noti e nominabili, che a sua volta per definirsi tale, per dire io sono quella cosa al cui interno stanno le cose note, si deve a sua volta definire per opposizione concettualizzando l'indefinibile attraverso il termine, il concetto di indefinito. Detto questo esporrò brevemente la teoria della Douglas che dice sostanzialmente che la società è fatta di dualismo. A partire da questa dicotomia primaria, che si fonda sulla distinzione tra il medesimo e l'altro, tra il noto e l'ignoto del linguaggio e l'ignoto del non linguistico, discendono dunque anche tutte le rappresentazioni cognitive, la dimensione del mondano della società, opposta a quella del mondo sacro, quella che io ho definito mondo sacro nel saggio in bibliografia, che è il luogo del non regolamentato. E così via. In ambito clinico noi riprendiamo questa distinzione perché in realtà l'organizzazione appunto che potremmo riconoscere all'interno di una antropologia medica, cioè di un'antropologia del pensiero medico, si ricollega esattamente a questa distinzione linguistica e diciamo sociologica in quanto discende da essa perché vuole identificare nella normalità, diciamo l'aspetto della sanità e dunque della purezza, e nella malattia l'aspetto della normale, cioè dell'impurità. Ci sarebbe altro da dire su questo, ma per adesso io mi fermo qui, farò una seconda parte di note, di approfondimento per chi vorrà in qualche modo sapere di più circa questa dicotomia primaria. e per adesso insomma io mi fermo qua, vi invito come al solito se volete a consultare il saggio che è il testo base di questo corso e che trovate nella descrizione del video e vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati di future uscite. A presto!